Mi piacete più come uomo che come detective Ah si? Che capelli meravigliosi Paul, devo sapere il loro segreto, vi assumo Non chiedevo di meglio, accetto l'incarico Oh, ciao, carino No, 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 no A presto. A presto. La lacca Cadonet è il meraviglioso segreto dei nostri capelli. Perché Cadonet fissa morbido morbido. Cadonet lascia i capelli liberi di respirare e di giocare con l'aria. Cadonet è la lacca preferita da milioni di donne per la sua qualità. Cadonet.